...un punto, pazzevole, a che senso ironico, no? Ah, questo, accumulare certo che è una pazzevole, a che senso ironico. Ultima parola, attenzione, sette, che è il senso, è stata estima questa parola, c'è l'ho? E poi c'è un'altra, è per partitinare, stiamo, eh? Tensione, B, e poi è di B, che crea, Nupolo, Nupolo, brava, sì, Nupolo, Nupolo, la produzione della birra che è testata, ovviamente è una bevata, molto semplice, buon anno, belli acquiglotti, bellissime pozzettini, 4 mila, 8 mila, e adesso la prima catena musicale, andiamo. Oh, cantate, cantate, Angelo, e adesso ecco il primo inizio, giubox, giubox, questo è il primo inizio musicale, attenzione. Allora, piloti, giubox, M, Moneta, perché il giubox ci fa funzionare iniziavendo una moneta, giusto? E adesso arrivano, attenzione, due inizi musicali, oricchio. famigliare, famigliare, moneta, F. faccia, 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 una faccia della moneta, testo, proce, bene, attenzione, pareggio, pareggio, vediamo gli occhi, ma arrivano tre inizi musicali. prima la familiare, adesso. è, 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 è.